La divinazione è un antico e misterioso processo, che ci permette di esplorare il passato, il presente e il futuro. Utilizzando oggetti sacri come carte e rune, ci colleghiamo al divino e al cosmo, ottenendo così comprensione e guida. Questa pratica millenaria è stata tramandata dai pagani, dalle streghe e dai saggi per migliaia di anni, ed è considerata una delle forme di magia più antiche conosciute dall'umanità. Ogni tradizione magica ha i suoi metodi e strumenti unici per raggiungere lo stesso obiettivo. Quindi sentitevi liberi di seguire il vostro istinto e utilizzare ciò che più vi risuona. Tra le forme più comuni di divinazione si trovano i tarocchi, il lancio delle rune, le tavole degli spiriti, le ossa, la cera delle candele e lo scrying in varie forme. Ognuno di questi strumenti, e molti altri ancora, può aiutarvi a sviluppare l'intuizione e a ottenere una visione più approfondita della vostra vita e di quella degli altri attraverso la pratica della divinazione. La divinazione richiede impegno e costanza, e probabilmente scoprirete che alcuni metodi funzionano meglio per voi rispetto ad altri. Man mano che acquisite esperienza in questa arte, rafforzerete la vostra intuizione, svilupperete il vostro sé spirituale e diventerete sempre più abili nella pratica divinatoria. Nonostante la maggior parte delle persone associ la divinazione alla lettura delle carte, il vero potere di questa pratica risiede nella sua capacità di rivelare le forze che hanno influenzato e influenzano il nostro passato, presente e futuro. Attraverso la divinazione siamo in grado di adattarci, crescere e cambiare la nostra situazione attuale e futura. Pensate alla divinazione come a uno sguardo attento sui fili del destino e sulle forze che li intrecciano. Ad esempio, se durante una lettura o un segno incontrate un'energia negativa riguardante il futuro, non disperate. Il futuro non è una realtà immutabile e, grazie alla divinazione, possiamo vedere la nostra traiettoria attuale e correggerla per ottenere un risultato migliore. Al contrario, segni positivi o auspiciosi ci indicano che siamo sulla giusta strada per raggiungere i nostri obiettivi. Con l'esperienza diventerete sempre più abili nell'interpretare i segni e il loro significato per la vostra vita. Ricordate sempre di meditare sui segni e di riflettere attentamente sulle informazioni ricevute e sul loro rapporto con la vostra situazione attuale. Nella prossima sezione condividerò il mio metodo preferito di divinazione, il lancio delle rune. Tuttavia, tenete presente che esistono molti altri metodi di divinazione e nel vostro percorso personale potreste scoprire il vostro metodo unico e speciale. Cari amici, vi aspetto nel prossimo video. Iscrivetevi, attivate la campanella. Così da non perdete nessun video, mettete un like e condividete. A presto!